Facciamoci dire una sintesi su questo intervento, dove l'abbiamo messo, che tempi dovremmo per realizzarlo eccetera. Questo è un intervento che abbiamo stimato che possa passare in zona di un milione e mezzo. Naturalmente è impossibile ricostruire la sede stradale nell'attuale sedino, bisogna fare un ponte. L'ipotesi è quella di ricostruire la strada lavorando in sterro verso monte. Adesso ho visto ditte, dove eravamo? Dove c'è un museo storico? Castel del Rio secondo me. A Castel del Rio c'è un'azienda del Prentino che fa tutto il tipo di ponte. Però qui diciamo che non abbiamo esigenze di costruire i 5-10 minuti, non c'è cambiato. Questo intervento l'abbiamo lasciato dall'intervento che abbiamo visto prima in poi, lì c'è un bypass, c'è la possibilità di raggiungere la strada di sede stradale. Da qui in avanti ci sono almeno tre franze. Che poi gliel'ha asfaltata e loro ve la danno insieme. Cioè l'abbiamo asfaltata e la stiamo usando. Abbiamo fatto una riclassificazione temporanea di una vicinata. Qui le frane sono tre in sequenza, quindi l'intervento è un intervento di un certo tipo. Cioè questa è la prima di tre simili a queste. Sì, sì, questa è la più grossa. La più grossa. E quindi chiaramente è fatta in aviaviazione. Sono 700-800 metri praticamente. Di strada. Insieme a questo intervento con lo studio di ingegneria che ci ha seguito, l'ipotesi è quella di mettere degli inclinometri per tenere monitorata la situazione. Perché comunque è tutto un fronte che si sta spostando. Si sta tutto muovendo. Non c'è solamente il problema strada, ma proprio anche tutto il fronte collinare che si sta muovendo. Quindi questa strada, commissario, naturalmente per la città di Cesena può avere un rilievo relativo. Per essere raggiunti a Cesena, chi sta nei comuni di Roncofreddo, da questa parte di qua, diventa un problema grosso perché da essere a 30 minuti da una città con l'ospedale, eccetera, eccetera, ora sono a 50 minuti. Capito?